Musica Benvenuti a una nuova edizione del Tg Serale di Irpinian News. Apriamo il nostro notiziario con la politica e con l'esito del congresso regionale del PD che ad Avellino ha visto il dato di maggiore controtendenza rispetto agli altri territori della Campania. Il capologo Irpino infatti ha fatto registrare il maggior numero di preferenze per il candidato Lettiano Guglielmo Vaccaro che ha staccato di quasi 100 voti la vincitrice assoluta del congresso assunta a Tartaglione che da parte sua ha ottenuto un vasto consenso nel resto della provincia avellinese. Vediamo il servizio. La deputata renziana assunta a Tartaglione il nuovo segretario regionale del PD e questo è il risultato delle primarie campane per le quali sono stati superati 100.000 votanti. Tartaglione si attesta a livello regionale con il 58,5% davanti a Guglielmo Vaccaro, deputato vicino ad Enrico Letta, con il 28% circa e Michele Grimaldi con il 13,7%. In Irpini alla rinziana vince ma non sfonda, anzi si ferma al 47% nonostante a sostenerla ci fossero l'ex senatore Enzo De Luca e l'onorevole Luigi Famiglietti. Segue Guglielmo Vaccaro che va ben oltre la soia del 37% e manda a K.O. la lista della deputata nella città capoluogo Irpina. Ultimo posto per Michele Grimaldi, fermo al 15%, che però si è distinto per essere arrestato fuori da accordi di potere. A confermare la sua vittoria è stata la stessa Tartaglione con un messaggio sulla propria pagina Facebook. Grazie a tutti per il sostegno, ora rinnovamento e questo è il messaggio della Tartaglione. Passiamo ora alla cronaca. Una coppia Irpina è stata arrestata poiché è ritenuta responsabile di aver svariggiato l'abitazione di un cinquantenne di Giuliano. Ma vediamo tutti i particolari nel video. Gli agenti del commissariato di polizia di Giuliano Villaricca hanno arrestato ai domiciliari stamane ad Avellino una donna di 45 anni e un uomo di 40, responsabili di rapina aggravata. I fatti fanno riferimento all'ottobre scorso, quando a Giuliano i due Irpini avevano dapprima circuito un uomo con un invito a cena e successivamente lo avevano indotto ad assumere una bevanta adulterata con narcotico, che gli aveva provocato un profondo torpore. L'indomani mattina la vittima si è risvegliata in stato confusionale presso la propria abitazione, dove ha constatato che la coppia gli aveva rubato denaro contante ed altri oggetti di valore, tra cui il proprio cellulare. Le indagini svolte dalla polizia nell'immediatezza del fatto e senza soluzione di continuità hanno consentito di rilevare copiosi elementi indiziari a carico di due indagati, riconosciuti anche dalla vittima, che sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la residenza dichiarata nel comune di Avellino. Ancora cronaca nel nostro Tg, weekend di intensa attività per il comando provinciale dei carabinieri di Avellino, impegnato su tutto il territorio nella repressione dei reati predatori e contrasto al fenomeno dello spaccio di droghe, soprattutto tra i giovanissimi. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, uno studente diciottenne altoirpino spacciava davanti alla scuola. Una pattuglia della stazione Carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi ha notato nei pressi del locale liceo De Santis un gruppetto di ragazzi in atteggiamento sospetto. Immediatamente è scattato il controllo che, dopo una perquisizione personale, ha permesso di rinvenire nella giacca di uno dei giovani una bustina contenente circa 15 grammi di marijuana. A Candida, invece, i carabinieri hanno tratto in arresto un pluripregiudicato 45enne di Serino, sorpreso nella flagranza del reato di furto aggravato. L'uomo aveva rubato legna in un fondo privato. I carabinieri hanno bloccato un individuo mentre in una zona rurale di Candida, dopo essersi introdotto in un terreno di proprietà privata, aveva trafogato 10 quintali di legna che aveva già provveduto a caricare sul suo autocarro. L'uomo è stato arrestato e trasferito ai domiciliari in attesa del rito abbreviato. Una notizia di sport prima di chiudere l'edizione serale del nostro telegiornale. Dagli epici sconti tra Vellino e Napoli è tornato a parlare Diego Armando Maradona, uno dei migliori talenti di sempre nel mondo del calcio. L'ex PIB De Oro ha rilevato il derby era solo contro l'Avellino. Ogni partita era una lotta con il pubblico di casa che spingeva la propria squadra a dare il massimo. Queste le parole di Maradona. Con lo sport termina l'edizione serale del TG di Irpinia News. Un augurio di buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.